Nella memoria dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tante messe non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli, usate la fantasia dell'amore, fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici. Grazie. 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 Grazie.